La storia della Deutschland La Prussia aveva vinto una battaglia molto importante, importantissima. Da questo momento in avanti veramente inizierà il vero processo di unificazione tedesca. Però non è un processo che parte subito in quarta. Abbiamo visto come gli stati tedeschi, soprattutto del sud, continuarono a nutrire sempre di più dei grandi sospetti verso questa Prussia, che sembrava utilizzare il nazionalismo come uno specchietto per le allodole, che alla fine era solamente un'espansione della stessa Prussia. E le condizioni dettate dalla pace di Praga ne erano una prova, in quanto la Prussia si era annessa a molti territori tedeschi. E abbiamo visto che sì, una volta sistemata l'Austria, non era ancora una situazione tutta rosa e fiori, perché era ovvio che le tensioni con la Francia, che incominciava a temere seriamente l'esercito prussiano, non potevano che inaspirsi mese dopo mese. Comunque, le nuove dinamiche interne, a partire dal 1866, che seguirono in Prussia con Bismarck a capo della cancelleria, furono molto interessanti. Innanzitutto, alle nuove elezioni, sia i liberali che i progressisti videro i propri seggi diminuire drasticamente, a vantaggio dei conservatori, che da 35 seggi arrivarono a 100. Questo era un effetto, diciamo, ritornerà molto spesso, molto ricorrente. Cioè, era molto frequente che le forze di destra, molto conservatrici o reazionarie, acquisissero consenso ogni qualvolta che l'esercito prussiano trionfava in qualche battaglia, no? In questo caso aveva platealmente trionfato a Sadova o Königgratz. Cioè, nonostante, una maggioranza di governo si sarebbe ottenuta solamente con l'appoggio della maggior parte dei liberali. Ed è proprio qui che le abilità machiavelliche, realpolitiche, realpolitiche di Bismarck si manifestarono prepotentemente anche in materia di politica interna. Quello che viene definito il ramoscello d'ulivo teso ai liberali di Bismarck non è altro che un modo carino per chiamare le scuse ufficiali di Bismarck nei confronti del Parlamento per i precedenti anni di governo senza bilancio. Quindi si scussò per aver governato dal 61-62, diciamo fregandosi dell'approvazione del bilancio da parte del Parlamento per permettere una grandissima spesa militare, e propose una sanatoria, ok, per questi oneri, e una promessa di riduzione progressiva della spesa militare. Con questa mossa, e con il re anche furioso, che quindi, cioè, percepiva come la cancelleria stesse cercando di far buon viso a cattivo gioco, però abbassandosi a livello dei parlamentari che non erano nulla, anche per Guglielmo I, Bismarck perse sì l'appoggio di alcuni conservatori, che quindi ritenevano inopportuno, anzi sacrilegious, che il re si scusasse, cioè Bismarck per conto del re si scussasse con il Parlamento, essendo alla fine conservatori filoassolutistici. Però, nonostante la perdita di, all'appoggio di una decina, poco più, di parlamentari, Bismarck riuscì a comporre una maggioranza, una nuova maggioranza, venendo incontro alle richieste dei liberali. E con buona parte dei conservatori, comunque che erano rimasti dal suo lato, era comunque uno Juncker, Bismarck, con l'appoggio dei moderati e dei liberali, che assieme a dei secessionisti del partito progressista formarono il partito nazionale liberale, che per quasi tutta la carriera di Bismarck appoggiò il suo operato, la maggioranza parlamentare fu garantita. Il conflitto costituzionale finì, così come l'immobilismo politico, che aveva caratterizzato la Prussia negli scorsi anni, e Bismarck decise di terminare la sua politica di scontro diretto con il Parlamento. E quindi i liberali decisero, in qualche modo, non è la prima volta che succedeva, di anteporre la questione pragmatica della governance, della governabilità, a quella delle libertà. E quindi la nuova stagione della politica prussiana, che poi caratterizzerà anche qualche anno più tardi della politica tedesca fino alla caduta di Bismarck, è di una certa sinergia, di una certa alleanza fruttuosa, positiva, fra maggioranza parlamentare e governo. Per quanto invece riguarda la neonata confederazione tedesca del nord, la Prussia ebbe ovviamente un ruolo di primo piano nella stessura dello statuto istitutivo. Nel 1867 veniva infatti approvata la nuova Costituzione federale, che quindi andava a sostituire la Costituzione della confederazione germanica totale, che quindi però comprendeva regni che non facevano più parte della confederazione del nord, uno su tutti la Baviera, e ovviamente, vabbè, l'Austria. E questa nuova Costituzione era caratterizzata da un suffragio universale maschile segreto, un bilancio obbligatorio per le spese dell'esercito, quindi un po' ricalcando le nuove promesse bismarckiane alla Prussia, e anche una presidenza, un organo di presidenza e di cancelleria, che però venivano date alle massime cariche prussiane, quindi la presidenza della confederazione del nord andava a Guglielmo, e la cancelleria andava a Bismarck. Rispostando invece l'attenzione sulla Prussia, nei due e tre anni, insomma, che seguirono la pace di Praga, il Parlamento, a maggioranza nazionale liberale in generale, diciamo filo governativa, riuscì ad ottenere molte conquiste in ambito economico, effettivamente. Certo, a discapito della vittoria di molte battaglie sociali, come si era detto, una su tutte l'abolizione della pena di morte, che i liberali non riuscirono mai a far passare. Anche la questione dell'unità tedesca con gli altri stati del sud sembrava oramai ad un punto morto. Gli stati del sud, infatti, continuavano a non vedere minimamente di buon occhio la Prussia e le sue tendenze accentratrici, che erano evidenti anche nella confederazione del nord, però, d'altro canto, la Prussia doveva rassicurare la Francia ed altre potenze del fatto che trovasse pace nel nuovo status quo appena creato, quindi non poteva, diciamo, esternalizzare nuove volontà di espansione e quindi di unificazione della confederazione del nord con quella del sud senza l'Austria. Ricordiamo anche che c'era questa Francia che continuava a impuntarsi sul fatto che era stata neutrale nel conflitto del 66, quindi si aspettava come minimo un po' di riconoscenza, oltre che dei territori che le vennero negati. Quindi sicuramente l'ultima cosa da fare era espandere questa confederazione di stati tedeschi, anche perché praticamente la Francia non confinava con quasi nessuno degli stati della confederazione del nord, in quanto in mezzo ci stava il Belgio e i Paesi Bassi. Erano gli stati del sud che confinavano direttamente con la Francia, e questo ricordo l'importanza strategica degli stati del sud della Germania attuale, per esempio durante le guerre napoleoniche. E quindi la Francia doveva evitare in ogni modo che la confederazione del nord si arricchisse di stati confinanti con la Francia, come per esempio gli stati della Renania, il Wittenberg, il Baden, insomma tutti stati che avrebbero aumentato tantissimo il confine fra Prussia o comunque stati tedeschi e Francia. Con la Prussia la Francia aveva meno di 100 chilometri di confine, abbastanza poco, con questi altri stati probabilmente sarebbe un po' i confini della Germania odierna con la Francia, quindi tipo 300-400. Però la Francia, anche svariati mesi dopo la sigla della pace di Praga, continuò ad avere con loqui con la cancelleria prussiana, anche segreti, circa le ricompense per questa agognata, questa tanto decantata neutralità. Benedetti, un ambasciatore francese, dimentica però in uno di questi vari con loqui con Bismarck, eccetera, un foglietto con un abbozzo di trattative per un'ipotetica alleanza franco-prussiana e quindi anche delle strategie o comunque delle intenzioni di invasione ed annessione alle spalle del Regno Unito di Belgio e Lussemburgo, dopo che, avevamo detto, nel 66 la Prussia di fatto lasciava il via libera a Lussemburgo, la Francia. Bene, Bismarck ebbe modo di conservare questo biglietto e come dice Topolino nella casa di Topolino, questo è un oggetto, uno strumento segreto che ci servirà più tardi. Infatti nel prossimo episodio questo foglietto ricicerà fuori e sarà veramente molto divertente vedere come verrà utilizzato dai prussiani da Bismarck. Dopo aver, insomma, accennato a questo foglietto che ritorneremo, su cui si ritornerà nel prossimo episodio, nel 1868 accade quello che si può definire un twist of fate, uno scherzo del destino, scherzo più per la Francia e grandissima opportunità per la Prussia e per Bismarck e la sua realpolitik di compiere finalmente il proprio obiettivo, aspettando, aspettando, quel momento giusto che finalmente, finalmente era arrivato. Nel 1868 una rivolta militare con caratteri popolari, passata la storia come la Settembrina, rovesciò il regno di Isabella II, ponendo fine alla quasi immemore, di immemore durata, dinastia dei Borboni di Spagna Spagnoli. Si aprì, perciò, dopo che Isabella era scappata in Francia, la questione di trovare un nuovo sovrano, dato che l'opzione repubblica ancora per un po', perlomeno in Spagna, non aveva avuto successo. Quindi, tra i candidati più verosimili per ottenere, per guadagnarsi la corona spagnola, vi era Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, quindi un principe di fede cattolica, a differenza della maggior parte degli Hohenzollern che erano protestanti e che quindi poteva essere un buon re spagnolo in quanto cattolico, della stessa casata dei re prussiani. Nel febbraio del 1870, perciò, il maresciallo spagnolo Prim si recò da Guglielmo I per verificare se egli acconsentisse banalmente alla candidatura del giovane parente Leopold. E qui Bismarck fiuta un'incredibile occasione per poter finalmente raggiungere i propri obiettivi e quindi questa unità, possibile unità tedesca, di matrice 100% prussiana. Egli fu, tra tutti i piani alti prussiani, quello più favorevole alla candidatura di questo principe. Perché? Beh, allora, innanzitutto, se fosse stato eletto Leopold, la Francia avrebbe avuto due sovrani Hohenzollern, una a destra, Prussia, e Confederazione tedesca del nord, ricordiamo che il reggente, chiamiamolo così, il presidente, era Guglielmo I. E a sinistra avrebbe avuto adesso l'ipotetico re Leopold Hohenzollern. E quindi la Francia avrebbe dovuto fare i conti con due alleati di sangue che la schiacciavano in mezzo a panino. Un po' come quando, a metà del 1500, Carlo V divenne contemporaneamente, oltre che re di Spagna, re del sacro romano impero. E i francesi di quei momenti non se ne erano dimenticati. In più, se la Francia si fosse opposta, prevedibilmente e verosimilmente, alla candidatura di Leopold, beh, il patriottismo ed il nazionalismo dei tedeschi del sud, quindi sdegnati dai comportamenti di Napoleone III, avrebbe finalmente facilitato il proprio riavvicinamento alla Prussia in frunzione antifrancese, che forse era veramente, infatti sarà, l'unico modo per far riavvicinare Baviera e compagni alla Prussia. E Bismarck l'aveva capito bene che il nazionalismo di tutti, di tutta la Germania, esclusa da Austria, sarebbe per forza dovuta passare dalla paura di qualcuno più grande, perché se no nessun bavarese avrebbe mai consentito di stare sotto la Prussia, nessun sovrano bavarese avrebbe mai gettato la propria corona per darla a Guglielmo, a un sovrano prussiano, Hoenzollern. In ogni caso, Bismarck sapeva che la Prussia avrebbe potuto contrattare con la Francia per elargire favori. Quindi sì, la Francia voleva rivendicare la propria neutralità nel 66? Beh, Bismarck poteva tranquillamente dire guarda, io faccio in modo che Leopoldo non si candidi, te però accordiamoci perché io mi voglio espandere, io voglio compiere questa unificazione nazionale e te, Francia, a meno che non vuoi avere un Hoenzollern in Spagna. Capiamoci, non ci furono però effettivamente dei dialoghi seri, perlomeno non sono arrivati a noi nel 2022, quindi non sappiamo quanto effettivamente in modo segreto Prussia e Francia dialogarono prima della candidatura di Leopold. Probabilmente poco, perché sappiamo che questa opportunità appunto era talmente succosa che Bismarck, tramite Guglielmo I, fece comunque candidare dal primo ministro spagnolo il principe Leopold, nonostante Leopold indirettamente minacciato dai francesi, avesse cambiato idea e non volesse più aspirare alla corona spagnola. Quindi Bismarck provava il tutto per il tutto, all in, voleva vedere che cosa sarebbe successo. Nel prossimo episodio vedremo come questa situazione molto instabile, appunto da instabile, andò a degenerare sempre di più. C'entra ancora il signor Benedetti, c'entra ancora il foglietto e ovviamente c'entra Leopold e la corona spagnola. Ma poi c'entrerà anche uno dei primissimi casi di fake news della storia che Bismarck seppe architettare molto bene sfruttando la nascente opinione pubblica. E quindi ormai finalmente ci siamo. L'unificazione dell'impero tedesco sta arrivando. Vielen Dank an alle e ci sentiamo al prossimo episodio. Tschüss! La storia della Deutschland! Mai prima d'ora la Prussia aveva avuto proprio il coltello dalla parte del manico rivolto praticamente verso tutti e soprattutto verso l'odiata vicina d'Occidente la Francia. Tutta questa situazione della candidatura del principe Leopoldo von Hohenzollern all'ipotetico trono spagnolo stava andando tutto, tutto quanto nel verso giusto. Avevamo visto tutte quante le possibilità che si aprivano. Quindi se fosse stato eletto la Francia sarebbe stata circondata da due Hohenzollern. Se non fosse stato eletto, se la Francia si fosse opposta, il patriottismo e il nazionalismo dei tedeschi anche a sud avrebbe fatto riavvicinare tutti quanti gli stati tedeschi verso la Prussia. E in ogni caso si poteva sempre trattare con la Francia per decidere capiamoci, capiamo, mettiamo questo re e quest'altro re, però mi aspetto delle cose in cambio. E quindi Bismarck, anche quando Leopold non se la sentiva più per queste minacce francesi di candidarsi, beh appunto fu minacciato ancora di più da Bismarck per modo di dire e quindi anche se avesse cambiato idea era stato comunque candidato. La risposta francese ovviamente non si fece attendere. Il 6 luglio, quindi quattro giorni dopo il sì ufficiale della recalcitrante candidatura di Leopoldo, di Leopold, anzi, il ministro degli esteri francese Garamont, da poco entrato, minacciò apertamente la Prussia di guerra e ordinò all'ambasciatore Benedetti, esatto proprio lui, Benedetti o Benedetti, non so sinceramente come viene pronunciato in francese, forse Benedetti. Insomma, Garamont ordinò a Benedetti di presentare un reclamo, alla fine ne presentò ben due, al re di Prussia e presidente della Confederazione Tedesca del Nord, Guglielmo I. Guglielmo, intimidito, bypassò i consigli di Bismarck ed intimò Leopold, gli intimò di rinunciare alla candidatura una seconda volta e Leopoldo fu molto contento alla fine di obbedire al parente maggiore. Ma alla Francia tutto ciò non bastava. Napoleone III aveva bisogno continuamente di alimentare l'opinione pubblica del suo paese, intrappolato in una sorta di folle gioco di dittatura demagogica. Avevamo visto come anche l'ingresso della Francia nella guerra di Crimea serviva proprio a questo, a fomentare i francesi e quindi a Napoleone autolegittimarsi ai loro occhi. Infatti, l'8 maggio scorso, Napoleone III aveva indetto un plebiscito dove chiedeva ai suoi amati francesi se fossero o meno soddisfatti delle sue politiche liberali degli scorsi dieci anni. E con l'oltre il 70% di consensi, quindi di sì positivi, egli si era in un certo senso guadagnato la legittimità a regnare per almeno altri dieci anni. Ed è proprio fresco di questo nuovo consenso popolare che Napoleone III incominciò a forzare ancora di più la mano in materia di politica estera, nominando appunto l'aggressivo Garamont come ministro degli esteri e Garamont mostrò appunto i denti per la questione insomma del prussiana della candidatura di Leopold. Garamont e quindi anche Napoleone non si accontentarono del successo ottenuto da Benedetti e quindi spedirono, anzi Garamont spedì il povero Benedetti a Bath Ems, una località termale dove si recava spesso Guglielmo I per fare delle cure, il 13 luglio, e disse a Benedetti di intimare il re prussiano a non presentare mai più né Leopold né alcun Hohenzollern a concorrere al trono di Spagna. Quindi ai francesi non bastava che Guglielmo prima avesse fatto ritirare la candidatura del parente, volevano una seconda prova che egli non fosse mai più, anzi non sarebbe mai più stato intenzionato a candidare, a lasciare candidare qualsiasi membro della sua famiglia. Ovviamente questo poteva già finire in tragedia, un oltraggio incredibile francese alla corona prussiana e ai tedeschi, però insomma, nonostante, Guglielmo rifiutò nettamente, ma abbastanza gentilmente, senza infuriarsi. Il caso volle però che il dispaccio relativo a questa conversazione di Bad Ems, inviato a Berlino dal consigliere relatore, finisse nelle mani di Mismark, il quale ebbe l'ennesima intuizione vincente, ossia ritagliare e tagliare le parti del dispaccio di Ems, dove Guglielmo aveva avuto parole abbastanza più caute, e dare in posto alla stampa scandalistica un riassunto, questo tagliuzzamento del dispaccio, dove sembrava effettivamente che il re avesse trattato con sdegno Benedetti. E questo ebbe due effetti prorompenti nei due grandi stati. Allora, per prima cosa, in Prussia e in tutta la Confederazione, e non solo, tutti i tedeschi, a prescindere dalle manipolazioni di Bismarck, ok, del dispaccio di Ems, lessero la notizia e, ormai i giornali, insomma, circolavano molto di più rispetto a 20-30 anni prima, si era formata di fatto un'opinione pubblica, e quindi, a prescindere dalle manipolazioni, tutti i tedeschi seppero la notizia. E perfino gli stati del sud, perfino la Baviera, si unirono ad appoggiare sdegnati la parte della Prussia e della Confederazione del Nord. Mai prima d'ora un avvenimento esterno aveva unito così tanto i tedeschi alla causa prussiana e nazionale. E parte due, per quanto riguarda Francia, l'opinione pubblica francese, che comunque era più evoluta di quella tedesca da un punto di vista industriale, la Francia era dietro, era stata superata dall'industria tedesca, l'industria francese quasi che non esisteva, però da un punto di vista politico e di circolazione, di scritti, di idee, insomma, ambiente pubblico di ceto medio-alto, la Francia era avanti. E infatti apprese dai propri giornali la notizia quasi in contemporanea ai prussiani, quindi solamente un giorno dopo il colloquio che aveva avuto Benedetti e Guglielmo I. Però che data era il giorno dopo? Beh, era il giorno 14 luglio 1870, ossia l'ottantunesimo anniversario della presa della Bastiglia il 14 luglio del 1789. E quindi questo aumentò ancora di più l'umiliazione ingigantita anche dalle fake news bismarckiane per quanto riguarda la Francia e Napoleone III. E come se non bastasse, già che il povero Benedetti ne ha passate mille, Bismarck tirò fuori quel famoso bigliettino con l'ipotetica invasione francese dell'Ussemburgo e del Belgio e fece pubblicare anche quello. E quindi questo comportò che il Regno Unito si guardò bene dall'appoggiare la Francia nel conflitto che da lì a poco sarebbe scoppiato, in quanto anche egli è indignato del fatto che, oddio, i francesi stanno tramando, semmai contro di me, hanno messo gli occhi su questo mio paese amico Belgio. Ora, qui si può dire, si potrebbe pensare che Bismarck avesse organizzato tutto quanto, proprio un disegno a pennello, per farsi dichiarare guerra dalla Francia e avere tutti i popoli tedeschi con sé e finalmente creare la Germania. Ora, un po' me la prendo con altri divulgatori, ho visto molti video che parlano del dispaccio di Ems, perché comunque è un evento molto famoso, molto chiacchierato, e devo dire che non mi è piaciuta quasi mai la versione finalistica che fanno del racconto, come se Bismarck fosse 30-40 anni che non aspettava altro di fare una roba del genere per avere una sorta di guerra preventiva. Perché non sono completamente d'accordo con questa visione eccessivamente, non lo so, da guerre stellari, la seconda trilogia, questi disegni assurdi di fantapolitica? Ora vi leggo un piccolo estratto della storia della Germania dello storico Craig. Allora, è sempre pericoloso parlare con troppa sicurezza delle intenzioni di Bismarck, ma la spiegazione che viene qui data è certo più plausibile di quella, già tante volte adottata, che gli volesse la guerra con la Francia fin dal momento in cui si presentò la questione spagnola. Per tutta la vita Bismarck fu contrario alla guerra preventiva, sostenendo che era solo un'assurda intromissione nelle vie della provvidenza e che in ogni caso era altrettanto irrazionale del suicidarsi perché si ha paura di morire. Se nella primavera del 1870 fossero dovute suonare le trombe di guerra, l'iniziativa avrebbe dovuto essere, secondo lui, della Francia e egli confidava che, in tali circostanze, Napoleone non avrebbe dato l'ordine necessario, a cosa appunto, a dichiarare guerra alla Prussia. Ricordiamo che sì, Napoleone III si serviva delle vittorie militari per aumentare il prestigio della Francia e autolegittimarsi come guida, però raramente entrava in, anzi mai era entrato in diretto scontro con una grande potenza, dichiarando guerra iniziando un conflitto. Più che altro si inseriva in conflitti a favore della parte che probabilmente avrebbe vinto per ragioni sopracitate. Continua Craig. La pubblicazione del dispaccio di Ems e la sua successiva rielaborazione nei giornali scandalistici delle due sponde del Reno crearono un'atmosfera in cui il ragionamento e il compromesso risultarono impossibili. Bismarck aveva sempre creduto che Napoleone III e Olivier fossero contrari alla guerra ed aveva ragione, ma a questo punto anche Olivier si rese conto che indietreggiare avrebbe rappresentato un'intollerabile perdita dell'onore e, come osservò l'ambasciatore inglese, l'imperatore ritenne che, nell'interesse della successione imperiale, non poteva permettersi di cedere alla Prussia. Non si può pertanto dire che Bismarck abbia voluto la guerra del 1870, ma fu certo ciò che ottenne grazie alla crisi che aveva incoraggiato, alla goffaggine di Garamont nell'affrontarla e alle passioni che essa scatenò nell'opinione pubblica francese. Possiamo quindi riassumere qui questa posizione un po' più cauta dicendo che non è che stava Bismarck facendo di tutto per farsi dichiarare guerra e quindi risultare come la parte lesa. Sicuramente il dispaccio truccato, la sorta di fake news bismarckiana, era stata usata per far accadere qualcosa. Sicuramente sapeva che i popoli tedeschi suoi si sarebbero indignati e quindi avrebbero parteggiato per lui. Certo non si può dire che fu tutto quanto un gombloddo per far sì che la Francia attaccasse veramente la Prussia. Ciò nonostante, l'esercito prussiano era pronto, pronto, più forte e più preparato di quello francese, anche se fu quello francese che il 19 luglio, quindi cinque giorni dopo la pubblicazione delle notizie, dichiarò guerra alla Prussia. E fu talmente tanto preparato questo esercito prussiano che la Francia non fece in tempo nemmeno ad accordarsi o allearsi con Austria e Italia che potevano avere degli interessi contro la Germania oppure l'Italia che comunque sì, non aveva interessi, però era alleata francese, aveva beneficiato dell'appoggio francese molte volte nei decenni precedenti. L'esercito prussiano era già entrato in Lorena e a Sedan, più a nord, l'esercito francese venne umiliato in meno di due mesi e appunto meno di due mesi dopo Napoleone veniva fatto prigioniero, mentre all'Hôtel de Ville a Parigi veniva proclamata, per la terza volta, la Repubblica Francese. Ad impedire che la guerra terminasse subito un po' come quando la Prussia si scontrò contro l'Austria nel 66, fu la decisione di Bismarck, probabilmente pressato dall'opinione pubblica nazionalista, nazionalistica, di occupare e poi annettere l'Alsazia e la Lorena, che furono territori germanici, sì però fino a metà del 1600. E ormai erano stati ben integrati alla Francia, tant'è che gli stessi abitanti erano in maggioranza filo francesi e la questione dell'Alsazia e la Lorena tornerà più e più volte avanti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il 18 settembre però iniziava l'assedio di Parigi, dopo che le due parti non si erano messe d'accordo per nessun tipo di armistizio a causa di questa invasione di questo territorio che non era proprio di lingua tedesca. Quindi vediamo come questo nazionalismo tedesco-prussiano eccetera, comunque quando poteva espandersi un pochino di più, tutto sommato non era un grosso problema per loro. Anche per esempio tutti i territori della Prussia orientale, polacchi, non è che fossero proprio, ecco, germanofoni. Ma questi sono i piccoli dettagli che i nazionalisti molto spesso si dimenticavano. In ogni caso Alsazia e Lorena sarebbe stata, oltre che una ricca regione, un necessario cuscinetto tra la Francia e la Germania, questo è il motivo per cui venne occupata. Il 18 settembre iniziava l'assedio a Parigi, che si protrasse per quasi quattro mesi, e dove il generale Moltke era deciso a bombardare la capitale, a trucidare la resistenza della Nuova Repubblica, anche contro la volontà di Bismarck che invece spingeva per una riuscita di un armistizio che però si ebbe solamente nel gennaio del 1871. La pace invece si ebbe solamente nel maggio dello stesso anno a Francoforte, la pace di Francoforte. La Francia rinunciava all'Alsazia e a Lorena e si impegnava a pagare 5 milioni di franchi come debito di guerra. Prima ancora che Thiers, primo ministro della Nuova Repubblica Francese e futuro presidente, avesse firmato la pace, il 18 gennaio, quindi prima ancora anche dell'armistizio, era successo un fatto epocale. Era nato l'impero e della formazione di questo impero nelle fassi terminali della guerra parleremo nel prossimo episodio, dove vedremo le nuove sfide che attenderanno Guglielmo I, imperatore tedesco, e Bismarck, cancelliere primo ministro prussiano, ma cancelliere anche del Reich, dovranno affrontare. E quindi, vielen Dank an alle, e ci sentiamo al prossimo episodio, mi raccomando, siateci. E quindi, tschuss! Il 18 gennaio del 1871, un tetro e nemmeno troppo felice Guglielmo I, pieno di pregiudizi e snobbismi prussiani, fu acclamato ed incoronato sovrano del Reich Unito, dove nella Sala degli Specchi a Versailles, a Parigi, dopo la vittoria con la Francia. Non era proprio, ecco, l'epilogo rosseo tanto sperato da quei nazionalisti più romantici, sembrò quasi una sorta di passaggio di rito. Più che altro, il nuovo impero sembrava appunto il secondo grande fagocitamento, ingrandimento della Prussia dopo il 66, dopo la vittoria con l'Austria. Questa volta, però, Bismarck dovette scendere a patti con gli stati del sud, seriamente, che, ok, sì, si erano uniti alla Prussia in funzione antifrancese, c'erano molti nazionalisti anche al sud, però erano abbastanza riluttanti, soprattutto i sovrani, ad abbandonare la propria corona, la propria egemonia, così, su due piedi. Al Wurtenberg e soprattutto la Baviera, Bismarck dovete fare grosse concessioni, anche al Baden, concessioni in termini di privilegi e diritti speciali, per esempio come autonomie amministrative oppure diritti in materia di imposte indirette, quindi scelta di tasse regionali, gestione delle ferrovie e anche di alcuni corpi militari. Anche i loro seggi nel nuovo Reichstag, quindi la nuova Camera, il nuovo Parlamento, Camera Bassa Nazionale, erano di più, erano maggiori rispetto alla proporzione alla loro popolazione, rispetto agli altri stati federati e, insomma, anche alla Prussia. Si deveniva, quindi, anche se molto criticato dai non privilegiati tedeschi del nord che facevano parte della Confederazione e che non avevano avuto tutti questi privilegi perché già erano alleati prussiani, insomma, si definiva uno stato federalista. Ci vollero alcuni anni, però, prima che gli altri funzionari prussiani, primo su tutti re e imperatore adesso, Guglielmo I, incominciassero a dare più importanza, più prestigio ai titoli tedeschi, nazionali, imperiali che non a quelli prussiani. Diciamo questo fil rouge già lo potevamo vedere partire dal 48, anzi dal 49, quando il fratello di Guglielmo I, insomma, si era dimostrato tutto sommato molto più atta... sì, nazionalista talvolta, o per comodità, però molto più attaccato ai propri titoli prussiani che non a quelli tedeschi, di imperatore o di re o di sovrano dei tedeschi. Comunque, andiamo un attimo a dire due cose sulla nuova Costituzione. Il nuovo impero tedesco era composto da 18 stati che avevano, tra l'altro, forme di governo molto differenti l'una dall'altra. Come diciannovesimo stato-territorio c'era quello dell'Alsazia-Lorena che era amministrato in via eccezionale. La Camera Alta, il Bundesrat, svolgeva sia compiti legislativi sia compiti esecutivi, essendo formalmente affiancato alla cancelleria e ai vari ministri dell'imperatore, e veniva a un letto a suffragio universale maschile segreto. L'imperatore godeva di enormi poteri, tra cui quello legislativo, perciò non si può parlare ancora di... anzi, non si parlerà mai in Germania di monarchia parlamentare. E nemmeno troppo, nemmeno di costituzionale, in quanto, poi vedremo, di diritti, non è che ce n'erano tanti. In ogni caso, i sovrani tedeschi poi conservarono la corona, seppur furono sottomessi all'imperatore. Tra l'altro, tuttora la maggior parte dei bavaressi si sente più bavarese che tedesca, insomma, in una sorta di modo analogo nell'Italia, per esempio i sardi siciliani o i veneti, ok? Questo forte regionalismo rimane in un, due o tre stati della Germania attuale, tra cui appunto la Baviera. Quindi il compromesso si era trovato, nessuno perdeva la corona, però bisognava riconoscere la propria sottomissione al reprussiano, che diventava quindi anche imperatore tedesco. Anche il Reichstag era a suffragio universale, appunto la camera bassa, ma buona parte delle leggi non era, e poi non sarà, nel futuro prossimo, una prerogativa federale, bensì dei singoli stati. La maggior parte delle leggi appunto veniva discussa nei vari parlamentini, nelle varie assemblee dei singoli stati. Il Reichstag continuava ad avere un'importanza importante sui bilanci federali e su leggi in materia di esercito, per esempio. Comunque, sempre parlando di Reichstag, Bismarck aveva fatto in modo di non prevedere una retribuzione per i parlamentari, così da escludere i rappresentanti di ceto medio, quindi mantenere, diciamo, quella composizione che molto assomigliava ad un parlamento dell'ancien regime composto da nobili, latifondisti, junkers e grandi signori del ferro dell'acciaio, insomma, grandi industriali dell'Ovest. Inoltre, seppur le leggi, anche quelle proposte dall'imperatore, erano pur sempre vincolate all'approvazione del Reichstag, la capacità di iniziativa legislativa della Camera Bassa, era stata appositamente limitata. In più, molti tedeschi influenti, magari con ottime capacità politiche, con ottime intenzioni, in questi anni, quindi dagli anni settanta fino agli anni dieci e l'inizio, lo scoppio della prima guerra mondiale, non si candidarono mai, non entrarono proprio a far politica, consci proprio della limitatezza di questo parlamento. E quindi, per la maggior parte della sua esistenza imperiale, il Reichstag fu, dopo tutto, un covo di notabili, mediocri, di rampolli e di persone, insomma, non proprio adatte, che, per esempio, se noi confrontiamo il Reichstag con Westminster inglese, ecco, diciamo che la qualità, la caratura dei politici era proprio nettamente inferiore. Purtroppo, appunto, ritornando alla questione di prima, quasi nessun diritto veniva sancito nella nuova Costituzione, a differenza, per esempio, di quella del 48. E questo fu una delle tante cose che lasciò insoddisfatti, molto insoddisfatti, i nazionalisti, i nazionalisti di sinistra, ma anche i radicali nazionalisti che poi furono anche un po' i nonni dei nazisti degli anni 30. Perché dico questo? Beh, dico questo perché, appunto, questa unità nazionale era molto diversa dalle aspettative, era molto diversa da quella che sembrava essersi formata nel 48. Era di fatto un'espansione prussiana, un'espansione austera, i nuovi organi costituzionali erano tutto sommato arretrati. Eravamo ormai nella seconda metà dell'Ottocento, c'erano delle monarchie parlamentari veramente significativamente evolute. La nuova Francia, per esempio, da dopo Napoleone III, ebbe una struttura parlamentare vera e propria, simile per certi versi a quella ingrese, che invece era parlamentare da qualche decina di anni. In Germania tutto ciò non accadde. E sempre per richiamare le feste e le attività, diciamo, dal basso, che in Germania, insomma, contano tanto, la contrapposizione fra l'austerità dall'alto e la spinta popolare romantica dal basso, ancora una volta come nel 48, fu molto forte. Se appunto il secondo Reich cercava di creare nuove feste non popolari, con caratteri, diciamo, ancora d'anchant regime, quindi processioni, un po' come quelle che ho raccontato nel 48, ecco, se l'alto cercava di imporre queste cose al basso, dal basso invece ci si muoveva molto diversamente. Erano nate associazioni ginniche corali, di persone che facevano tiro a bersaglio, che tra gli anni 70 e gli anni 90 dell'Ottocento in Germania andava molto di moda e radunava tantissime persone che poi erano tantissimi nazionalisti. Georg Mosse, o George Mosse se lo vogliamo chiamare col nome americano dopo che, insomma, emigrò dalla Germania in America, ne parla molto bene nel suo best seller La nazionalizzazione delle masse. Ma non solo, l'imposizione dall'alto della Sedanfest, quindi la festa che doveva in qualche modo celebrare la vittoria della neonata Germania, impero tedesco, sulla Francia, non fu tanto ben accolta dai tedeschi proprio per questo suo carattere austero d'anchant regime. Paradossalmente i peggiori critici dell'unificazione tedesca non furono tanto i prussiani conservatori, ma proprio questi nazionalisti, compulsioni di progressismo e di rinnovamento della struttura interna dello Stato, diciamo un pochino ammaliati da quello che era stato il nazionalismo nel 48, o per esempio anche in Italia, che delusi quindi boicottavano le feste dall'alto e organizzavano le proprie feste nazional-patriottiche, fölkisch. E quindi quando si pensa, appunto, erroneamente che il Secondo Reich in realtà è in continuità poi col Terzo Reich, è falso, perché il Terzo Reich, molti dei protagonisti della Germania hitleriana, erano proprio i nazionalisti o i figli di quei nazionalisti che negli anni 70 furono delusi dal mancato rinnovamento della Germania neonata e che quindi solamente con il nazionalsocialismo si poteva avere quell'idea di Germania ipernazionalista, moderna, che tanto auspicavano. In modo analogo anche una versione, diciamo, di lettura del risorgimento italiano vede il fascismo come il completo compimento di quegli ideali. In ogni caso, nonostante questi problemi all'interno dei molti nazionalisti e di molti liberali, nelle elezioni del 1871 vi fu un dominio dei nazionali liberali e anche dei conservatori che, come avevamo detto, ogni qualvolta che la Prussia vinceva delle battaglie, i conservatori prendevano molti punti e quindi molti seggi. Bismarck usciva come il vincitore indiscusso della nuova Costituzione e quindi anche delle nuove elezioni, essendo virtualmente responsabile di tutto e non dovendo fare i conti con le mozioni di sfiducia del Parlamento che non esistevano nell'ordinamento tedesco. Anche i capi militari, i prussiani, ne uscivano rafforzati, tra l'altro. Bisogna creare ora però una nuova unità nazionale. La base linguistica non basta, gli scontri di religione sono ancora divisivi, i simboli non sono accettati da tutti e da tutti gli stati federati. Per esempio, a proposito di simboli, questo neonato impero prusso-centrico non aveva ancora adottato il tricolore nero-rosso-oro come nuova bandiera, anzi non lo adotterà mai. Noi ritroveremo la bandiera attuale della Germania, che appunto sappiamo che questi colori esistevano da tanto tempo ed erano il simbolo dei nazionalisti, solamente a partire dal 1919 con la proclamazione della Repubblica. E quindi la stagione tedesca degli anni settanta si apre con questa ricerca di omogenizzazione del popolo e creare un'unità nazionale e delle nuove basi comuni perché ci si era resi conto che alla fine, a parte la lingua tedesca, c'era ben poca roba in comune fra un prussiano e un bavarese, per esempio. Bismarck quindi decide di attuare una politica fortemente identitaria, chiamiamola di prussizzazione, anzi se in questo caso forse è meglio di imposizione di valori protestanti, tutto sommato, ai danni della cultura cattolica e anche degli stati federali del sud, ricordiamo la Baviera è praticamente al 100% cattolica. Questa lotta che farà Bismarck, quindi l'impero tedesco, contro i clericali, contro il cattolicesimo e contro in generale l'idea di influenza religiosa confessionale nella vita politica che minacciava l'impero, prenderà il nome storico di Kulturkampf, quindi la battaglia culturale di Bismarck contro i bianchi. Nel prossimo episodio andremo a vedere la partita che Bismarck giocherà, sostenuto dalla maggioranza parlamentare contro il centro cattolico, antenato dello Zentrum della Germania di qualche decina di anni più avanti, appunto cattolico. E vedremo anche come alla fine questa battaglia non andò proprio nel verso giusto, anzi ridefinì quello che sarà lo zoccolo duro della maggioranza parlamentare che sosterrà Bismarck fino agli anni 90. E quindi questo cambiamento di appoggio dai nazionali liberali, sempre di più verso il centro, centro che si voleva prima combattere ma che poi, non essendo stato sconfitto, diventerà invece il maggior alleato del cancelliere di ferro. E quindi, danke shen an alle e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciuss! La storia della Deutschland Secondo me, il problema di fronte al quale ci troviamo viene visto come un problema confessionale o religioso. La sua natura ne risulta deformata e la luce in cui è considerato diventa falsa. Si tratta infatti di un problema essenzialmente politico. Non è un attacco di una dinastia protestante contro la Chiesa Cattolica, come è stato affermato dai nostri concittadini cattolici. E non è una lotta tra credenti e miscredenti. Non è nient'altro che l'antica lotta per il potere, una lotta vecchia come la razza umana stessa. Una lotta tra il potere regale e la casta dei sacerdoti. Una lotta per il potere che risale a molto tempo prima che il nostro Salvatore venisse al mondo. La lotta per il potere che Agamennone combatte in Aulide con i suoi auguri che gli costò la figlia e impedì ai greci di salpare. Essa è la lotta per il potere di cui è colma tutta la storia della Germania, dal Medioevo fino alla distruzione dell'impero germanico e che ebbe fine nel periodo medievale quando l'ultimo rappresentante dell'illustre dinastia imperiale morì sul patibolo, sotto la scure del conquistatore francese, alleato di chi era allora Papa. Ci siamo trovati vicini ad un'analoga soluzione del problema, tradotta ovviamente in termini attuali. Se la guerra di conquista francese scoppiata in coincidenza dei decreti vaticani avesse avuto successo, non so che cosa ci sarebbe da dire. Questo anche nelle regioni cattoliche della Germania, sui gesta dei per francos. E' con queste grida di battaglia che Bismarck al Reichstag inaugurò la sua battaglia contro la Chiesa Cattolica non in quanto appunto confessione religiosa, ma in quanto organo che comunque esercitava un certo potere sulla politica. E quindi la partita che Bismarck voleva giocare, sostenuto dai nazionali liberali, industriali, contro il centro cattolico partito. Bismarck era assai contrario all'esistenza di un partito confessionale, appunto il centro, che minacciava i fondamenti laici e poi anche protestanti del nuovo impero appena formato, ancora in cerca di un'identità forte che comunasse prussiano, bavarese, abitante del Baden, abitante di Francoforte, e così via. In particolare egli fu allarmato da una lettera di Pio IX che esprimeva solidarietà al partito del centro. Per la Germania la questione era ora di sicurezza nazionale, perlomeno per i piani alti della politica imperiale. Comunque bisogna ricordare che l'anno prima, nel 1870, il Concilio Vaticano aveva deliberato anche il dogma dell'infallibilità del Papa. Questo appunto per buttare ancora benzina sul fuoco per quanto riguarda questa situazione. La prima legge del Kulturkampf, quindi della battaglia culturale di Bismarck contro il centro contro i cattolici, fu varata nel dicembre del 1871 e vietava ai parroci di trattare le questioni statali in maniera organica ed esaustiva, onde evitare appunto questa prevaricazione della confessione religiosa sulla ragione di Stato prussian-tedesca. Nel 1872 seguì invece la legge sull'ispezione scolastica che allargava le competenze ispettive dello Stato e dell'Impero anche alle scuole private gestite dai preti. E nel luglio dello stesso anno fu impedito ai Gesuiti di avere delle sedi e di esercitare, insomma, le proprie funzioni proprio in tutto il territorio tedesco, in tutto l'Impero della Germania. Come se non bastasse, il ministro dell'istruzione entrante, Folk, combatté un'aspra battaglia contro anche le minoranze polacche, che poi erano maggioranze nella Prussia orientale, e quindi anche contro l'insegnamento del polacco nelle scuole. Capite bene che in territori dove l'80% degli abitanti era madrelingua polacca, questo fu, diciamo, un grave attacco alla libertà e alle minoranze dell'Impero germanico-tedesco, che sì, nazionale-nazionalista, però effettivamente nelle parti esterne dei confini non erano proprio tutti tedeschi DOC, come potremmo dire. I liberali, infatti, si protestarono animatamente contro queste grandi violazioni dei diritti e delle libertà. Tuttavia, in pochi si rifiutarono di firmare queste leggi. Nel 1873, dopo altri numerosi provvedimenti anticattolici, le gerarchie ecclesiastiche decisero di boicottare apertamente le leggi, e ciò spinse Bismarck, l'anno successivo, a far opprevare una legge, un'altra legge, che espellesse tutti i sacerdoti dissidenti, alla quale un'enciclica papale rispose nel 75, scomunicando invece tutti coloro che avevano approvato tale legge nel Reichstag e nel Bundestag e in generale nel Consiglio dei Ministri e nella cancelleria. Nel 1876, però, il governo aveva già fatto tabula rasa dei clericali, altro che scomunica. Solamente tipo nello stato di Prussia un terzo delle parrocchie cattoliche rimasse senza parroco. In altri stati cattolici, come per esempio la Baviera, solo le norme federali furono applicate e nemmeno sempre alla fine. La Prussia, infatti, aveva inasprito il Kulturkampf, varando anche altre leggi interne nei propri parlamenti, nei propri organi legislativi, attuandole anche in maniera più violenta, più veementemente, diciamo. Ancora una volta, vediamo come gli interessi economici dei liberali furono più determinanti degli interessi ideologici degli stessi. Dopotutto, le politiche dell'Impero Germanico, dell'Impero Tedesco, da quando era nato, erano state tuttavia liberiste di apertura al commercio, libero mercato verso l'Occidente. E quindi c'era sempre questa contraddizione di fondo, che rimase tale da adesso fino a per sempre, anche in Italia una roba simile, successe col fascismo, di benefici economici, in cambio di chiudere un occhio, sì, protestare però comunque le leggi del Kulturkampf, te le approvo lo stesso, chiudere un occhio per la questione di diritti e libertà di questi poveri attori sociali che venivano massacrati da queste leggi liberticide. In ogni caso, le elezioni del 1874 ebbero come risultato esattamente l'opposto di quello che sperava Bismarck, ossia il centro, cattolico, raddoppiò i seggi, arrivò a 95 seggi nel Reichstag e i nazionali liberali, invece, persero di credibilità. Persero l'appoggio del loro elettorato, credibilità agli occhi del loro elettorato per avere acconsentito appunto a questa barbara lotta e quindi persero anche molti seggi. Bismarck si ritrovò quindi nel 74 a dover riconoscere la sconfitta di questi quattro anni di battaglia culturale e, oltre a licenziare Folk, quindi questo ministro che in qualche modo attirava su di sé in modo emblematico la responsabilità di questa battaglia scolastica culturale, Bismarck fece in modo anche di smantellare la quasi totalità delle leggi del Kulturkampf, con i voti di molti liberali oramai e ovviamente del centro che era più potente. In questi anni il carceriere prenderà in seria considerazione di formare un nuovo cartello parlamentare per appoggiarsi ad una nuova maggioranza. I liberali infatti che persero molti seggi successe non solo a causa della loro ipocrisia, ma anche a causa della crisi finanziaria, qui seguì la crisi economica, legata al fallimento di alcune banche tedesche e soprattutto molte attività finanziarie di credito e speculative, dovuta al fatto, anche al fatto, che siccome la Francia riuscì a ripagare rapidamente i 5 miliardi di debiti di guerra del 70-71, questo fatto mise in circolo in poco tempo una quantità spropositata di denaro che finì in investimenti spesso folli, creando una sorta di febbre dell'oro e immense bolle finanziarie a causa delle inconscienti speculazioni. Non so se già esisteva una banca centrale, non credo. In ogni caso non aveva il potere che hanno adesso le banche centrali, quindi successe una sorta di boom speculativo e poi grande crack, grande recessione, abbastanza simile, in modo un pochino più contenuto, al crollo della borsa di Wall Street, dovuto appunto a essenzialmente la prima esperienza, la prima crisi che aveva la Germania da quando era entrata in un sistema globalizzato liberale. La crisi economica che seguì a questo crack finanziario fu attribuita appunto all'assai fair e ciò rafforzò il fronte dei conservatori. In ogni caso, senza entrare in dettagli tecnici, appunto bisogna ricordare, e lo ripeto, il governo tedesco non aveva idea di come gestire politiche economiche anticicliche, non c'era nemmeno, cioè si trovava senza armi, appunto senza banche centrali, istituti che sarebbero, diciamo, nati più avanti nel Novecento in modo serio, e soprattutto non c'erano ancora fondamenti teorici per reagire appunto a quella che era la prima crisi economica dell'era industriale del paese della Germania. Ed è proprio in questo periodo, tra l'altro, che gli stereotipi antisemiti sugli ebrei si rafforzarono, anzi forse quasi si crearono, essendo anche legati ad una nuova paura irrazionale della modernità che minava il modo di vivere, diciamo, tradizionale tedesco. Ecco che l'ebreo veniva adesso etichettato come il grande speculatore della finanza, che aveva convinto i tedeschi a investire, ad arricchirsi, a vivere questa nuova vita urbana e opulenta, quando in realtà era tutto quanto un complotto per distruggere questo paese appena creato, che viveva in mezzo a due fuochi, alla Francia e alla Russia. Ricordiamo questa questione dell'accerchiamento nasce qua e poi viene ripresa. Ovviamente il concetto di Lebensraum, della Germania, di Hitler. Comunque, tornando ai nostri amici liberali, l'ultima influenza degna di nota che essi nel Reichstag riuscirono ad avere riguardava il compromesso sul bilancio militare settennale, quindi un bilancio che bisognava riapprovarlo ogni sette anni, che tutto sommato fu un buon risultato dal momento che Bismarck spingeva per un bilancio illimitato in stile pre-1866, dove Reichstag non aveva minimamente il controllo. Dico ciò perché a partire dal 1875 era chiaro che il governo poteva ambire, come detto, a formare una nuova maggioranza più solida, spostando lo sguardo dai liberali, dai nazionali liberali, verso i conservatori e soprattutto verso quello stesso centro che Bismarck tanto aveva combattuto fino praticamente all'anno precedente. Ma tanto, insomma, non era cosa nuova per il cancelliere fare buon viso a cattivo gioco e ad offrire questi ramoscelli d'ulivo, ok? Pensiamo al ramoscello d'ulivo invece offerto ai liberali dopo il 66 per la legge di sanatoria, appunto per andare a riparare il danno politico diplomatico fatto dal governo che si fregava dell'approvazione del bilancio, soprattutto il bilancio della parte del bilancio militare. L'asse con i liberali, quindi, stava per saltare e iniziarono già le prime politiche protezioniste dell'impero, inaugurate dai dazzi sul grano in funzione anti-Stati Uniti d'America, in quanto le nuove tecnologie, le navi a vapore, stavano abbattendo i costi del trasporto, soprattutto del trasporto di commodities come i cereali, e quindi il grano del sud degli Stati Uniti era in Europa a troppo buon mercato. I grandi Junkers russiani si lamentavano di questo, sapevano che stavano perdendo, diciamo, la loro egemonia europea per quanto riguarda l'export del grano e quindi fecero pressione affinché il governo inserisse questi dazzi sul grano estero, quindi soprattutto su quello americano, ma in realtà anche su quello russo, tutto sommato. Anche i grandi signori dell'acciaio, Renani, spinsero per il protezionismo in funzione anti-Regno Unito, spinti sempre dall'isteria post-crisi del 73. Anche in questo caso, ancora per alcuni anni, l'industria dell'acciaio tetisca era meno forte, meno produttiva di quella inglese e quindi i grandi signori dell'acciaio, i grandi produttori d'acciaio che tecnicamente potevano rientrare nell'area liberale politica, però decisero, spaventati da quello che era successo, la crisi del liberismo dell'SFR, di spingere il governo a introdurre tazzi anche per quanto riguardava l'import dell'acciaio. Comunque, nonostante ciò, la rottura con i liberali si ebbe solamente nel 78, a ridosso delle elezioni federali. Le condizioni per ufficializzare la nuova maggioranza si concretizzarono nello stesso anno, in primavera quando l'imperatore Guglielmo I fu vittima di due tentati omicidi, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Bismarck seppe prendere la palla al balzo e incolpare un nuovo partito che si era ufficialmente formato solamente l'anno prima, nel 75, e che, vedremo, sarà la causa che, da una parte, permisero i liberali un attimo di rifarsi la faccia proteggendo questo partito da queste nuove leggi liberticide, cosa che non avevano fatto per i gesuiti e non avevano fatto per i cattolici. D'altra parte, sancirono anche la loro sconfitta alle elezioni. E di questo partito, che poi sarà un po' la pecora nera, il capro espiatorio di tutte le politiche repressive dell'impero da adesso fino al suo crollo, ne parleremo nel prossimo episodio. Ovviamente si parla del SPD, quindi il Partito Socialdemocratico tedesco. E quindi, fino in Duncan Hall e ci sentiamo al prossimo episodio. Tchuss! Il Partito Socialdemocratico nacque formalmente nel 1875 con la fusione di due partiti di ispirazione marxista e la saliana, attivi fin dagli anni Sessanta. Forte di questa unione, il nuovo partito si presentò alle elezioni federali del 1877, non raggiungendo per poco la doppia cifra di consensi, circa il 9,1 se non ricordo male. Un ottimo risultato per essere la loro prima legislatura. La legge elettorale, che prevedeva però dei collegi uninominali sparsi da tutto il territorio, impedì all'SPD comunque di guadagnare molti seggi. Infatti, nonostante questo 10% quasi di consensi, ebbero solamente 12 seggi al Reichstag, quindi praticamente meno del 5% dei seggi. Comunque, piccola nota a margine, l'acronimo SPD verrà utilizzato solo a partire dal 1890, quando le leggi sui socialisti decaderanno. Però, insomma, per comodità chiamerò sempre SPD. Insomma, nonostante il partito di Bebel e di Liebnacht non rappresentava ancora un pericolo sociale per la Germania, agli occhi dell'imperatore della cancelleria, Bismarck aveva già intuito il potenziale rivoluzionario di questo movimento e decise perciò di aspettare l'occasione giusta per colpire, praticamente sul nascere, il nuovo gruppo di socialisti. SPD, che tra l'altro avevano riportato nel 77 un programma tutto sommato moderato lassalliano, talmente moderato che veniva criticato dallo stesso Marx, però per Bismarck era comunque troppo, già troppo rivoluzionario. Al primo attentato di Guglielmo I, provocato da un idraulico squilibrato che aveva sparato due colpi alla sua carrozza, Bismarck presentò al Reichstag un disegno di legge che prevedeva lo scioglimento delle SPD, così, senza nessun nesso tra l'attentatore e il socialismo. Però fu comunque respinto perché fu decisivo il voto dei liberali che a questo giro si, insomma, vollero rifarsi la faccia dopo aver acconsentito per anni alle folle politiche di Bismarck contro i cattolici del Kulturkampf e quindi respinsero queste leggi. Cioè, nonostante, una settimana dopo che la legge era stata respinta, un medico sparò all'imperatore quando egli era a cavallo, ferendolo a questo giro gravemente. Anche in questo caso il nesso con l'ESPD era abbastanza assurdo. Sì, il signore aveva fatto parte in passato di un'associazione operaia, ma era stato espulso abbastanza velocemente per appropriazione in debita di fondi pecuniari. Quindi comunque il parallelismo attentato socialismo ancora una volta era assurdo, ma ciò non impedì a Guglielmo I, su spinta del cancelliere, a sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni che rafforzarono i conservatori e tolsero tre dei dodici seggi ai socialisti. Questo ovviamente è dovuto all'isteria del nemico interno, oh mio Dio siamo in pericolo, i socialisti vogliono rovesciare il potere e stanno cercando di uccidere l'imperatore. E quindi la prima legge antisocialista che il nuovo Reichstag approvò tolse il diritto di associazione e pubblicazione ai socialisti, oltre che determinare il diritto di espulsione domiciliare a tutti quelli che venivano bollati come agitatori di folle, quindi in poche parole tutti personaggi scomodi. I liberali sparivano quindi dalla maggioranza di governo. Quelli che rimassero in maggioranza dei liberali semplicemente si piegarono alla volontà del cancelliere. Quindi in questo nuovo clima antisocialista l'Espédé rimase illegale di fatto fino al 1890, quando le leggi speciali non vennero più prorogate. D'altronde Bismarck dal 90 non c'era nemmeno più. Però comunque continuò a sopravvivere in Parlamento l'Espédé come partito pirata, però mantenendo sempre tra i 9 e anche i 30 seggi parlamentari. Nel 90 il partito assunse anche l'acronimo attuale, come abbiamo detto, e ancora una volta, come nel 71, assistemmo all'effetto opposto di queste politiche anti qualcosa. I socialisti acquisirono sempre più seggi in realtà, elezione dopo elezione, fino a diventare addirittura il partito di maggioranza nel 1912, quindi due anni prima dello scoppio della guerra. E poi a mantenere, diciamo, questo primato anche dopo la guerra alle prime elezioni della Repubblica di Weimar nel 1919. Anche le pubblicazioni che erano illegali socialiste circolarono quasi indisturbate, dato che venivano stampate all'estero, soprattutto in Svizzera, e facilmente riuscivano a deludere la dogana. Quindi ancora una volta le leggi anti qualcosa andavano a rinforzare quel qualcosa. Bismarck non aveva imparato dagli scorsi errori contro i cattolici. Comunque, a proposito di dogana, la svolta protezionistica alla fine degli anni 70 arricchi produttori di grano e di acciaio a discapito ovviamente dei consumatori tedeschi. Si non competizione che alla lunga avrebbe impedito la Germania di crescere e di diventare competitiva a partire da, insomma, dagli anni della guerra e in avanti, cosa che invece per esempio non accadde agli Stati Uniti d'America. Infatti, come ci ricorda Chandler, Regno Unito e Germania rimasero ben presto bloccati dal loro rudimentale modo di fare impresa. Da una parte abbiamo il Regno Unito, le cui aziende non crebbero oltre un certo punto e rimasero comunque tutto sommato familiari. Il ruolo del manager non spiccherà da quella parte, dalla parte europea del mondo agglosassone, ma solamente negli Stati Uniti, dove invece si fece impresa a partire dagli anni 10, agli anni 20 e al 900 in altra maniera. In Germania invece, appunto, come abbiamo detto, ci fu un problema di eccessiva cartellizzazione, quindi alla chiusura dell'economia, alla reintroduzione di dazzi, molti grandi produttori, soprattutto di acciaio, trovarono in quel momento, quindi nel breve periodo più conveniente accordarsi in cartelli per tenere alti i rendimenti rispetto al entrare in competizione e quindi anche favorire lo sviluppo tecnologico e poi anche far abbassare i prezzi ai consumatori. Tra l'altro la Germania, in un'ottica competitiva, aveva vinto una battaglia importante per modo di dire con la Francia proprio in quegli anni, quindi è strano come venisse poi utilizzato in altri contesti un approccio diametralmente opposto. Mi rifaccio, diciamo, allo studio di Merman per quanto riguarda l'industria chimica dei coloranti. Infatti, sebbene l'industria dei coloranti artificiali si origina praticamente dall'invenzione del chimico inglese William Perkin nel 57, l'applicazione di questa nuova scoperta fu inizialmente subito massiccia in Francia, primo produttore al mondo di tessuti e capi di abbigliamento di lusso. Anche perché, grazie ad un grande mercato interno di scosmesi, la Francia poteva disporre di lavoratori facilmente riconvertibili al nuovo settore di coloranti chimici. Intorno agli anni 60 e all'800 però, gran parte della produzione di questo settore si spostò in Svizzera e soprattutto in Germania. Come mai? Beh, a causa di una ferrea politica di brevetti sulle tonalità, sui processi e sui macchinari industriali instaurò, insomma, un regime di concorrenza imperfetta all'interno del territorio francese. La Germania approfittò della situazione idiotta per attrarre capitali esteri e soprattutto anche capitali umani francesi altamente specializzati. Del funzionamento innovativo delle università tedesche parleremo brevemente nel prossimo episodio. Fatto sta che venne garantito in Germania, perlomeno fino alla formazione anche lì di monopoli però nel ventesimo secolo, un regime di concorrenza perfetta priva di stringenti legislazioni sui brevetti, che favorì la continua ricerca per le innovazioni e fece abbassare i prezzi per i consumatori. E quindi questo permise alla Germania di diventare un grande esportatore di prodotti chimici e poi successivamente per spin-off e riconversione anche di prodotti farmaceutici a livello mondiale. E quindi non si capisce come mai, se la Germania aveva beneficiato così tanto di questa concorrenza interna per diventare il massimo produttore di prodotti chimici e farmaceutici, poi invece per quanto riguardava l'acciaio minacciati dall'acciaio inglese, invece avevano deciso di spartirsi il mercato in modo cooperativo e quindi alla lunga anche svantaggioso per tutti di grandi cartelli nazionali. Poi spostiamoci al di fuori della Germania, quindi per quanto riguarda la politica estera, Bismarck provò a far riappacificare Austria e Russia in questi anni e stabilire, ristabilire anzi quell'asse conservatore in Europa che era insomma in vigore per modo di dire fin dai tempi del congresso di Vienna, forse anche prima, anzi sicuramente anche prima. L'accordo che ne derivò però, il patto dei tre imperatori, sarà destinato a fallire ben presto a causa degli interessi contrapposti tra Austria e Russia nei Balcani. La situazione rimasse invariata tra l'altro fino al 1914 e contribuì anzi in modo chiave allo scoppio della prima guerra mondiale. Già nel 75 quando i bosniaci e i bulgari si ribellarono ai turchi ottomani, i serbi e i grini intervennero militarmente, si rischiò un conflitto europeo e Bismarck dovete fare le gincane per non far saltare subito il patto tra le due potenze amiche che si erano schierate, Austria con i ribelli e Russia con la Serbia. Se i trattati di pace scontentarono la Russia che ebbe più di una cosa da ridire su ciò che non guadagnò da questa guerra, da questa ribellione, successo invece un avvenimento che riavvicinò Germania e Italia. L'occupazione di Tunisi, francese, nel 1881 praticamente consegnò all'Italia nelle mani di Bismarck, la quale stava iniziando la sua avventura coloniale in Nordafrica e temeva quindi i contrasti con la Francia che invece era molto più grande e stava dando segni di volersi espandere sempre di più anche nelle zone di interesse italiane. Evidentemente la considerazione di Depretis dell'impero tedesco era molto alta per rinunciare alla decennale amicizia con la Francia, insomma quella Francia che aveva aiutato l'Italia a diventare Italia dal 59 in poi. E poi insomma voleva veramente tanto bene alla Germania se praticamente rinunciava a Trento e a Trieste per siglare la triplice alleanza insieme anche all'Austria nell'82, perché era palese che un trattato difensivo, un patto ricordiamo di difesa tra Germania e Austria praticamente metteva una croce sopra all'irridentismo in quanto con un'Austria come alleata né Trento né Trieste né Bolzano, men che meno, potevano diciamo mai sperare di diventare italiane. Negli anni Ottanta assistiamo all'apice diciamo economico, l'epoca d'oro della Germania che aveva completato o stava completando il proprio miracolo, la propria rivoluzione industriale, ma a questo splendore economico non si affiancò mai uno splendore politico, perché la situazione anzi andò sempre più a diventare quasi reazionaria dagli anni Ottanta in poi, verso la fine, verso il declino della cancelleria Bismarck. Nel prossimo episodio andremo a vedere proprio quello che successe negli anni Ottanta e anche la nuova politica di espansione coloniale tedesca impensabile fino a solamente qualche anno prima. E vedremo come l'esperienza Bismarckiana andò ad infrangersi con la morte di Guglielmo I, è il suo successore, anzi quello subito dopo, ossia Guglielmo II, dal momento che Federico III regnò per veramente pochissimi mesi. E quindi, Phil and Duncan all e ci sentiamo al prossimo episodio. Tchuss!